Non tutti hanno gradito l'espressione piuttosto precisa ed esatta di Patrizio Bertelli che ha rilasciato durante l'intervista a Teneturia sul turismo di Arezzo. E' una città che mi ritenebbe davvero di essere tutti i giorni sotto l'olto dei riflettori. Ma è un problema che non è che nessuno lo impedisce, crede che la città si dedichi a tutti i giorni sotto l'olto dei riflettori. E' una città che mi ritenebbe davvero di essere tutti i giorni sotto l'olto dei riflettori. Ma anche dopo l'acquisto della banca tenuto chiuso anche in occasione della mostra, ecco, viene adoperato da noi come vetrina per i nostri comunicati stampa che non trovano spazio su altri media locali. e questo è il famoso Duca Nero che è stato il primo attore di questa mostra, poi fortunatamente abbandonato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.